Perché è arrivata ieri nel tardo pomeriggio, abbiamo imparato a prendere confidenza con questa immagine, è una scuola di Genova con dei bambini seduti in ginocchio e usano le sedie come banchi. Parla il preside di questa scuola, nessuna lezione in ginocchio grave la strumentalizzazione ed è arrivata poco fa anche la notizia che a Palermo sono stati chiusi due asili per positività del personale adulto al Covid. E mi sa che a questo dovremmo abituarci, allora chiedo...